ciao a tutti a tutte ben trovati oggi ho preso questa borsa io so come sapete un po il la fissa delle borse c'è chi ce l'ha delle scarpe c'è chi ce l'ha dei vestiti c'è chi ce l'ha dei trucchi chi di di altre cose insomma io ho tra una delle delle mie principali fissazioni e sono le borse io adoro le borse borse bocchette eccetera sono stata da coach ho presa con un 20 per cento di sconto quindi un buono sconto e scartiamo insieme in realtà o per la questo treppiedi e poco stabile vediamo un attimo allora usiamo le forbici perché qui ci si vede poco allora la forma del pauletto alla forma del pauletto i colori sono nero e cacao marrone scuro perle chiaramente io non acquisto mai difficilmente ora prendo in soffa ma non è questo più le borse in ecopelle in pvc perché sono il prezzo è diventato veramente molto alto ma oltre al prezzo alto dopo un po si si rovinano si spellano vediamo un po che cosa c'è scritto qui big darsi ma non so comunque scartiamo è una forma che io amo molto io amo le totte o le questo 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 genere di bauletti io ne ho un altro di pauletto di gocce che metto metto spesso però questa aveva fa però aveva a sia la chiusura centrale quanta carta quanta andiamo qua sia la chiusura centrale che le tasche laterali quindi invece il bauletto nero ha solo ed esclusivamente una zip centrale questo non so che quasi queste sono le etichette in pelle che poi se vuoi da gocce puoi far incidere con le tue iniziali io di solito faccio questa volta mi sono dimenticata comunque quando ci ripasserò magari con la borsa glielo chiedo ok via via altro pezzo questa non ha non ha il da quello che vedo non ha il il cuscinetto per mantenere la forma ma credo che non ne abbiamo ne abbiamo neanche bisogno perché è una forma piuttosto rigida un'operazione un po lunga la faccio in diretta perché così mi rilasso diretta insomma in video così mi rilasso un pochettino dopo una giornata di lavoro talmente intensa e tante arrabbiature perché le persone sono tutte nervose sono tutte c'è un linguaggio un po' come dire aggressivo c'è violenza tutte le parti non lo so ma anche sul lavoro non sono un po rumorosa sono sempre stata un po rumorosa ma adesso questo come si fa a toglierlo da qui ecco qua ce l'ho fatta ok poi la regolo quando devo mettere la metà tracolla ok comunque questo questa è la tracolla vediamo dentro tanta carta allora altra carta voglio prepararla subito con voi che così domani quando esco butto per terra poi raccolgo così domani quando esco la uso immediatamente e quindi allora se darsi crill brown black non lo so non so se il modello non so niente ok comunque allora tasca una bella apertura centrale come vedete la grandezza non è non è una borsa piccola io difficilmente uso borse piccole anche perché sapete che sui 30 30 35 di base e due tasche laterali queste tasche laterali non hanno altre tasche no queste no ecco qui c'è un'altra un'altra apertura quindi praticamente sono una due ma qui c'è un'altra 3 che comodo per il cellulare 4 e 5 più di così che volete ma adesso la riempiamo prendo prendo la borsa che stavo usando oggi e la riempio allora eccola qui allora la borsa che sto usando in questo periodo è questa anche se non amo non amo il color cuoio io non capisco perché continuo ad acquistare borse color cuoio mi piacciono mi piacciono quando le vedo però quando quando le utilizzo le indosso non lo so non amo particolarmente questa è una borsa di the bridge ho questo modello anche in nero l'ho fatta vedere praticamente quella in nero la uso in un modo quasi imbarazzante e ho per far prima perché io spesso faccio il cambio di borsa anche durante la settimana ho ritirato fuori questo questa pochette contenitore che avevo preso anni e anni fa da zara ma tanti anni fa e che è comodissima ne ho comprate altre ma questa è comoda quindi ha una tasca questa questa tasca qui quest'altra una tasca centrale grande questa tasca centrale grande anche un'altra zip e più a due tasche grandissime queste tasche grandissime non ridete tengo anche una torcia tengo anche una torcia ok eccola qua perché ultimamente ultimamente non ho visto un gradino era buio sono caduta e ancora ancora un ematoma che si deve riassorbire sono caduta il 16 dicembre quindi 16 gennaio 16 febbraio sono quasi tre mesi ancora l'ematoma interno ancora non è riassorbito ho passato i guai quindi mai più mai più quindi se poco buio ho cioè procedevo con la con la torcia del telefono dico sì sì è sufficiente non è stato sufficiente perché è passato ma un gradino guardate questo di questa altezza e niente sono caduta in ginocchio e mi sono fatta male 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 insomma non è stata una passeggiata quindi vediamo se questo non credo che questo entri qui questo non entra quindi qui metto le ci sono gli occhiali metto le cose sfuse questi sono gli occhiali sono occhiali da vista sporchissimi difendi che io sto ho sempre due tre paio d'occhiali perché tendo a lasciarli in giro li lascio sempre da qualche parte li trovo chiaramente non è che li lascio però quando mi servono non ci vedo questo è una piccola coscetta dove tengo dei farmaci anzi ne approfitto perché devo prendere una una pasticca e me l'ho dimenticata oggi che giorno è giusto per perdere per parlare per perdere un po' di tempo ok quindi sono quelle che ho trovato comprate da oviesse sono queste scatoline dentro altre scatoline e io ho messo i giorni così non mi non mi dimentico che questa qui ci sono i farmaci dentro questa ci sono delle fazzolettine di carta che metto qui perché altrimenti se ne vanno in giro per tutta la borsa quando mi servono per andare in basso il bagno fare qualcosa altro non ritrovo questa è una sacchetta che ho preso da da cm per la spesa questo è una salviettina igienizzante la mettiamo qui queste sono le mie airpods le mettiamo qua qui metteremo il telefono che cosa c'è ma qui ci sono c'è questa salvietta gigantesca per pulire gli occhiali che mi sono fatta dare salmurare che via no perché non si loro loro utilizzano e puliscono tutti gli occhiali io riesco a pulire gli occhiali spray tutte faccende ma alla fine sempre sempre opachi sono questo cos'è una salvietta rinfrescante ma l'avevo in un ristorante detengo sempre che c'erano dei guanti ma non li utilizzo qui una matita questi sono importanti questa qui è importantissima questa me la porto dietro questo qui lo lasciamo qui questa qui cosa c'è ah ci sono dei braccialetti ma ecco perché pesava sono dei braccialetti che ho comprato l'altro scorso sono rimasti lì carini non mi ricordo dove ho comprati non mi ricordo estivi sì perché c'è un cavalluccio marino c'è una conchiglia c'è un altro pescetto qui cosa c'è qui c'è questo specie di budino verde un'altra conchiglia un'altra conchiglia una tartarughina una stella marina il sole sì sono estivi comunque va bene li lasciamo qua poi li mettiamo in ordine che altro devo aggiungere devo aggiungere ah ecco scusate un momento vado a prendere eccomi qui ancora ok sistema un attimo questa questo tre piedi che balla allora mi ero dimenticata di mettere il come si chiama il portafoglio cioè la facevo bella senza portafoglio non sarei potuta non sarei potuta neanche prendere la macchina perché dentro ci sono i documenti c'è la patente c'è tutto quanto ok ho preso tutto allora qui ci sono delle delle mentine qui altre mentine queste le ho prese dove le ho prese queste le ho prese a Londra queste mi piacciono non le ho prese non mi ricordo mi sembra in un in un museo non so se la Tate non mi ricordo comunque questo è il mio portafoglio di furla color naturale color cipria color cipria sto mettendo tutto qua ho messo c'è il caos qua già questi sono i miei occhiali da sole che io porto sempre con me vediamo un po' se entrano mamma mia questo telefono questo è un libretto sono dei frammenti che ha scritto Alessandro Baricco sulla sulla pandemia non l'avevo letto ne approfitto per per portarmelo dietro se ho del momento di pausa mi piace mi piace dare un'occhiata questa è piena stracolma già piena stracolma questa questa borsa ok però queste cose mi servono qui porterò con me il mio mio nuovo diario personale ok lo metto qui la penna la mia solita penna eccola qua questa che è la Uniball signo 05 questo è Uniball signo UM100 05 blue black l'adoro non si sa quante ne ho comprate ok questo per il momento lo lascio lo lascio a casa le chiavi questo c'è un portachiavi gigantesco così enorme con tutte le chiavi di casa le chiavi della macchina questo qui lo tengo in mano perché tanto dopo lo metterò in borsa e qui finalmente chiudiamo ah la caricatore caricatore del telefono è il telefono allora qui è piena stracolma stracolma qui metterò il telefono il caricatore qui bisogna che sistemo meglio perché non ci si capisce niente già no così non può essere no è impossibile sistemiamo tutto non si può fare così allora vediamo un attimo un po' di trucchi mi devo portare dietro per forza ok quindi questi li prendo sementine qui mettiamo il libro e ok mettiamo sementine qui il telefono con metterò il telefono il caricatore qui che cosa c'è mamma mia non è molto capiente questa borsa questo qui lo lasciamo prenderemo soltanto i farmaci per forza perché devo prendere le cose durante la giornata questo me lo porto mi dispiace ma non si scherza più col buio e poi lascio fuori gli occhiali da sole tanto c'è un altro paio in macchina e questa bustina mi serve per forza perché altrimenti se devo comprare qualcosa non è molto capiente ecco già ho capito ok va bene ci adattiamo comunque vediamo un po' se pesa beh media media mettiamo la tracollina ok e ok ok allora la borsa è pronta per domani mattina questo è tardi quindi mi strucco penso che mi guarderò un filmetto e poi andrò a dormire quindi questo è il video di oggi e vi auguro buona serata e niente ci vediamo appena ci sentiamo appena ho qualcosa di nuovo da dirvi a presto ciao mi sta venendo da ridere perché ho intenzione di attaccare di lato a questa bozza questa 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 porta chiavi che rappresenta una kelly ok l'avevo preso tempo fa da carpisa poi io adoro pure un'altra cosa che adoro sono i porta chiavi li compro spesso anche perché li distruggo li distruggo e quindi ho attenzione di mettere questo porta chiavi attaccato alla borsa ci sta da dio questo questo rosso ok quindi l'attaccherò penso dunque il braccio è così l'attacco qui cosa ne pensate horrible sicuramente però a me piacciono queste cose così pure stupidine inutili comunque va bene questo è devo far vedere come come ci stava magari se mi stanco poi lo levo oppure lo mettiamo qua beh non lo so vediamo un attimo anche qui davanti vediamo un attimo come ci sta non lo so lo lascio di là adesso vediamo ciao ciao alla fine ho deciso lo metto l'ho attaccato alla tracolla perché almeno non è troppo lungo ok probabilmente levo pure questo leverò questo anellino che tanto non serve perché non è che ci metto le chiavi quindi l'ho attaccato qui rosso ci sta benissimo ci sta bene ce l'ho anche turchese ma naturalmente lo metto dall'altra parte questo turchese carino pure turchese ma turchese lo preferisco col tutto nero comunque vabbè stupidaggini serali ciao 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 ciao